Ciao ragazzi, buonasera! Io stasera sono Beneventana, uscirò con i miei amici storici, mia sorella e dopo il lockdown una serata così ci sta. Ancora un sabato anomalo, ma tutto sommato proviamo a divertirci e a distrarci. E voi cosa fate di bello? Adesso vi lascio, il semaforo è verde e non vorrei fare come nella Playstation. BAM! Ciao!